carissimi fratelli e sorelle, gioie e pazzi in abbondanza a tutti voi la grazia del Signore che da sempre regna nella vostra vita e quest'amore non ci tradisce mai, non ci abbandona mai quest'amore molto geloso, dice la scrittura Dio non sopporta che i suoi figli passino sotto il potere di altri infatti col peccato l'uomo si è sottomesso al potere di Satana ma Dio è troppo geloso per lasciarlo in quello stato per questo ha mandato suo figlio nel mondo a liberare l'uomo, a riindegrarlo abbiamo letto in questi giorni, meditando il libro della Genesi come l'uomo col peccato si è ribellato a Dio e il Signore ha dovuto metterli fuori del paradiso terrestre e mettere un cherubino a guardia dell'albero della vita perché gli uomini mangiando di quel frutto raggiungessero l'immortalità perché questo? perché la volontà di Dio che è piena di misericordia vuole che al peccato sia posto un termine ecco la morte allora la morte vista come l'interruzione della vita ma anche l'impedimento all'uomo di rimanere eternamente peccatore per questo nella scrittura allora troviamo qualcosa di stupendo, di meraviglioso questa misericordia del Signore che non ha mai fine e quindi a questa misericordia il Signore si rivolge anche verso i peccatori al di là di questa vita lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni verrà un tempo in cui anche i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quando l'avranno ascoltata vivranno molti interpretano queste parole dicendo che Gesù si riferiva a quelle che sono morti spiritualmente ma poi Gesù ribadisce dicendo verrà un tempo in cui tutti coloro che sono nei sepolcri e quel discorso è troppo evidente tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di correzione di giudizio la condanna di Dio è il giudizio a lasciarsi rigenerare, rinnovare e nella liturgia di oggi il Signore ci presenta il caso del lembroso che va da Gesù e chiede di essere mondato perché la lebra gli impediva di stare in comunione con gli altri la legge di Mosè obbligava il lebroso a dimorare fuori del consesso umano fuori della città fuori dell'abitato e quando qualcuno si avvicinava doveva gridare il mondo, il mondo cioè sta lontano da me nel Medioevo erano i campanelli si suonano i campanelli per cui se qualcuno si avvicinava a un lebroso doveva sapere che lì c'era un pericolo di contagio di infezione perché la lebra era ritenuta una malattia contagiosa per la verità poi è stato scoperto che è dotato ad un bacillo che comunica questa malattia bene il peccatore una volta che ha peccato viene messo fuori del paradiso il lebroso viene messo fuori del consesso e quindi quando quest'uomo va da Gesù gli chiede di essere mondato cioè guarito per tornare nel consesso umano vedete la bellezza di questo brano fratelli che ci fa vedere ci illustra anche quella che è la volontà di Dio verso il peccatore che non è solo quello di perdonarlo non è solo quello di cancellare il suo peccato è quello di rigenerarlo da capo Dio ma onda il peccatore rigenerandolo facendolo rinascere dal cuore trafitto di Gesù da quel cuore trafitto sulla croce dicono i santi è scatorito un fiume di misericordia un fiume di amore perché perché quel Gesù che è stato crocifisso è stato l'amante più grande della storia che ha amato tanto l'umanità fino a lasciarsi crocifiggere per essa fino a prendere su di sé i peccati di tutti per liberare tutti per integrare tutti noi nella grazia di Dio nello stato dei figli di Dio per farci eredere della gloria eterna per farci vivere già in questa vita nello spirito del suo amore nello spirito di Dio che gioia amore pace pazienza benevolenza bontà lunga dignità dominio di sé ecco l'opera di Gesù Cristo che quindi viene come amante amante della sua sposa la chiesa e dà la vita per la chiesa oggi molti celebrano la festa di San Valentino festa degli innamorati però è una festa non molto chiara perché non si sa se sia festa degli innamorati o degli appassionati perché l'amore è un qualcosa che tende è quella forza interiore nell'uomo che tende a cercare la comunione di amore cioè a far dono della propria vita e a correre la vita della propria questo è quell'amore che Gesù Cristo ci ha portato non la passione che con una volontà soddisfatto lascia il cuore libero vuoto scontento depresso no l'amore di Gesù è quell'amore che ti riempie la vita che ti sazia fino a farti traboccare di amore di pace tante volte i santi che hanno sperimentato questo amore così imponente così ricco hanno dovuto gridare basta signore basta Santa Gemma Cargani una volta scrissa al suo padre spirituale padre Germano lei è una grande mistica aveva anche l'estimate giovanissima avrebbe voluto entrare in monastero ma gli fu sempre impedito lei un giorno ebbe a scrivere al suo padre spirituale che lei soffriva il dolore della passione ma quei dolori diceva io li posso sopportare ma ora il Signore mi ha dato un'altra pena molto più grande la pena dell'amore e lei nel suo cuore aveva una fiamma d'amore travolgente tanto che una volta il fuoco che aveva nel petto bruciò addirittura la pelle del petto e lei diceva al suo padre spirituale la posso sopportare il dolore della passione ma se Dio non mi aiuta questo fuoco mi divora e mi travolge è il fuoco della passione cari fratelli quella passione che Gesù Cristo ha portato ma che è poco conosciuto una grande mistica fiorentina abbiamo citato più volte Santa Maria Maddalena di Pazzi gridava venite ad amare l'amore venite ad amare l'amore l'amore non è conosciuto l'amore non è amato e rivolgendosi al Signore le diceva amore amore tu sei amore devo gridarla e farmi sedere da tutto il mondo che tu sei amore anche nell'inferno mi devono sentire che sei amore tu sei amore questa realtà del tuo amore deve penetrare l'universo deve penetrare le viscere della terra deve penetrare ogni realtà creata Dio è amore per questo San Paolo ammoniva i suoi cristiani dicendo dicendo qualunque cosa voi facciate fatelo sempre per amore del Signore sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa fate tutto per la gloria di Dio cioè con grande disinteresse ma tutto per amore e non siate motivo di scandalo né a Giudei né ai Greci né alla Chiesa di Dio così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto ma nella seconda verità non col compromesso pur di piacere agli altri senza cercare il mio interesse ma quello di molti perché giungano alla salvezza per San Paolo vivere era salvare per San Paolo vivere era dare quell'amore traboccante che Gesù gli aveva fatto sperimentare sulla starata di Damasco che poi gli aveva fatto sperimentare in maniera molto più potente quando in preghiera si era manifestata e l'aveva trasportata in uno stato paradisiaco tanto che lui diceva ho visto cose che occhio mai non vide né orecchio mai udì ne può la lingua può raccontare perché qualcosa che va al di là della capacità umana l'amore non si può descrivere non ci sono poesie che possono descrivere l'amore si si può parlare d'amore l'amore va sperimentato l'amore va vissuto e Gesù questo amore ce lo fa vivere quando ci apriamo col cuore a lui e anche in mezzo alle difficoltà gli rendiamo grazie quando in mezzo alle difficoltà ci abbandoniamo a quell'amore perché quando lo sappiamo impariamo ad accorre l'amore di Gesù anche in mezzo alle difficoltà allora Satana è vinto allora Satana è sconfitto è legato perché perché neanche la sofferenza si allontana dall'amore di Gesù è un amore vittorioso e di questo amore noi oggi abbiamo bisogno cari fratelli è questo amore che il Signore ci vuole donare ci ha donato ma ci supplico che accogliamo questo amore ci lasciamo travolgere a questo amore allora cari innamorati lasciatevi avvolgere a questo amore travolgente l'amore di questo sposo innamorato che per la sua sposa ha dato tutto quello che aveva fino all'ultima goccia di sangue ha fatto traboccare dal suo cuore trafitto sulla croce tesoro e venite di misericordia perché non c'è peccatore per grande che sia che non sia oggetto di questa misericordia questo amore vuole accollarsi il peccato del peccatore vuole accollarsi i delitti degli assassini vuole accollarsi i tradimenti di chi è stato infedele pagare lui con questo amore per liberare il peccatore e introdurlo nella gioia del paradiso Gesù non vuole cacciare fuori del paradiso terrestre e ti vuole introdurre in questo vero paradiso che non è fatto di soddisfazioni sensuali è fatto di dono d'amore dono spirituale dono che prende tutta la vita dell'uomo e questo amore cari fratelli Gesù vuole dare oggi a tutti voi siate perciò ricolmi di questo amore Signore Gesù sposo innamorato Santa Catarina da Siene ti chiamavo pazzo d'amore perché solo uno che ha perso la mente può amare come hai amato tu ma tu eri probabilmente cosciente hai dato la tua vita per amore volontariamente oggi tocca a tutti noi tiraci fuori dal nostro strato di impurità siamo fuori spesso dal paradiso terrestre c'è un carubino che ci impedisce di entrare nel santo dei santi tu col tuo sacrificio Signore ci vuoi introdurre fa che questo si realizzi oggi per tutta la Chiesa per l'umanità intera a te Gesù la gloria l'onore e la potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissima fai festa ogni volta che un tuo figlio si apre all'amore di Gesù oggi rallegra la città di Dio con il tuo canto di lode dicendo l'anima mia magnifica di Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore che questo cantico oggi entri nel cuore di ogni creatura umana di ogni innamorato che si lode si benedica a Dio e che ogni innamorata sappia dare la propria vita per l'amato e se è piacere accogliere il dono dell'amore per vivere non nel tradimento dell'infeteltà e del dubbio ma nella comunione gioiosa e santa che dure in eterno agge sulla lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli amén